Ciao ragazze, allora partiamo dal risultato finale che è questo tra pochi secondi vedrete il mio mi preparo con voi così almeno vi mostro tutti i prodotti che sto utilizzando e con cui mi trovo bene insomma quindi vi mostro anche qual è la loro applicazione vi parlo un po' di come mi sto trovando con questi prodotti e chiacchieriamo anche un pochino del più e del meno vi racconto un po' di novità, un po' di cose mie spero tanto che questo video vi piaccia trovate comunque tutti i link ai vari prodotti nel box informazioni sotto al video quindi aprite qui sotto e troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno ci tengo anche a precisare che ho deciso di fare questo video di prova per vedere se ogni tanto posso inserire un video di questo tipo semplicemente per condividere con voi quella che è la mia opinione sui vari prodotti che sto utilizzando e anche per parlarvi un attimino della durata mostrarvi l'applicazione mostrarvi l'effetto diretto proprio sulla pelle non faccio questo video per insegnarvi a truccarvi perché non sono una make up artist quindi questo video nasce proprio per chiacchierare un pochino raccontarvi un po' di me e poi per mostrarvi i prodotti che sto utilizzando quindi se vi piace questa tipologia di video lasciatemi un pollice in su e fatemelo sapere anche fra i commenti iscrivetevi anche al mio canale se non volete perdere i prossimi video e adesso cominciamo eccomi! non prendete paura sono struccata ma ormai mi vedete in tantissimi video struccata quindi ormai sarete anche abituate allora cominciamo subito se no il video diventa super lungo e comincio utilizzando la base opacizzante levigante per pelle grassa che sarebbe il primer di Puro Bio questa non sarebbe adatta al mio tipo di pelle perché ho una pelle mista però diciamo che quando utilizzo quello per pelle secca mi risulta troppo troppo pesante il primer serve a far durare di più il trucco e anche a far aderire meglio tutti i prodotti questo primer mi piace perché lascia la pelle molto liscia molto levigata quindi è un prodotto che non utilizzo spesso però mi piace utilizzarlo ogni tanto insomma quando ho un po' di tempo da dedicare al trucco oggi farò un trucco molto semplice molto naturale anche perché devo fare qualche commissione non devo fare niente di particolare come fondotinta vado ad applicare questo io tolgo sempre il tappo quando vi mostro le cose vado ad applicare questo fondotinta lunga tenuta con SPF 15 di Sovietique e utilizzo la colorazione numero 3 allora io lo applico in questo modo vado a metterne poco sulle mani sulle dita poco insomma il giusto e poi vado ad utilizzare la spugnetta ultimamente mi trovo molto molto bene con la spugnetta e mi trovo bene anche a picchiettarla in questo modo sulla pelle noto che l'effetto sulla pelle è molto più carino rispetto ad un altro utilizzo insomma rispetto all'utilizzo del pennello perché io fino a poco tempo fa utilizzavo sempre sempre il pennello mentre adesso mi sono resa conto che ottengo risultati migliori utilizzando la spugnetta allora questo fondotinta a me piace parecchio perché va a coprire il giusto non so se già qualcosa si può notare dal video comunque rimane veramente diverse ore sulla pelle e va a donarlo un colorito un po' più sano diciamo in giornate come queste un fondotinta di questo tipo serve che vada a coprire un po' soprattutto perché in questi giorni devo lavorare tantissimo o meglio ho lavorato tantissimo perché domani io e Mattia partiamo per l'Egitto dove rimarremo alcuni giorni quindi mi sono dovuta portare avanti con tutti i lavori appunto al pc tutte le varie scadenze che ho perché devo coprire diciamo anche i giorni in cui non ci sarò io poi tra l'altro quando ho deciso di fare questo video ho avuto un problema con il mio cagnolino che mi ha graffiato per sbaglio il labbro superiore ieri quindi continuo a mettere il burro cacao nella speranza che passi comunque scusatemi se vedete questo tagliettino ok a questo punto vado a fare le sopracciglia velocemente e sto utilizzando la matita numero 27 di Puro Bio ok allora come vi dicevo domani io e Mattia partiremo per l'Egitto devo ancora finire la valigia perché già in questi giorni mi sono messa a preparare un po' la valigia perché ho detto altrimenti non ce la faremo mai ad organizzarci per bene visto che dobbiamo organizzare un sacco di cose abbiamo un sacco di impegni in questi giorni quindi a Natale saremo al caldo io non sono mai stata al caldo a Natale e quindi sono curiosissima di viverlo non so se voi già avete passato al mare delle vacanze natalizie insomma io non sono abituata a questo cambio di temperatura improvviso però non vedo l'ora ok ora passiamo al correttore che io applico sempre dopo il fondotinta e in questo caso utilizzerò il correttore numero 32 di Puro Bio quello aranciato e sopra poi andrò ad applicare il correttore numero 18 sempre di Puro Bio che è un po' più rosato diciamo quindi io vado a metterne poco sulla zona in cui ho le occhiaie un po' più scure e in questi giorni le occhiaie ce ne sono parecchie a questo punto io vado a lavorarlo un pochino con il dito con l'anulare che è quello che ha minore pressione fra tutte le dita quindi è il dito migliore diciamo da utilizzare in questa zona che è molto molto delicata dopo aver lavorato un po' questo prodotto io in realtà sono pronta per Halloween non sono pronta per andare al mare o per uscire perché sono tutta arancione non so se si vede vado a stendere anche l'altro prodotto allora io come faccio? siccome non mi piace tanto l'effetto di questa matita direttamente sulla pelle sinceramente a volte mi fa male mi dà fastidio allora di solito ne metto un po' sul dito e poi vado a passare il dito direttamente sulla zona in cui devo andare a stenderlo dopodiché prendo la spugnetta e finisco tutto quanto con la spugnetta allora come vi dicevo visto che a Natale saremo via e domani partiamo e voi state guardando questo video oggi che è Natale stasera festeggeremo il nostro Natale quindi ci scambieremo i regali e insomma faremo la cenetta un po' come se fosse Natale quindi oggi sarà una giornata un po' festiva per noi dovremo preparare la valigia e poi ci scambieremo anche i regali io tra l'altro sono una persona che ha una paura sprenata di volare quindi non so come andrà il volo sinceramente probabilmente mi berrò 5 camomille visto che durerà circa 4 ore il nostro volo comunque dai ce la faremo ce la faremo sono positiva ce la faremo ok a questo punto passiamo con gli occhi sarà un trucco come vi dicevo molto molto naturale perché non devo fare chissà cosa allora vado a prendere l'ombretto di Puro Bio è il numero 1 quindi color champagne che è shimmer quindi vado ad applicarlo nella parte interna dell'occhio ne applico molto poco giusto per illuminare un pochino il mio sguardo allora vi dico questo è il metodo che utilizzo io e sicuramente sarà sbagliato perché non sono una make up artist però io mi trovo bene insomma con questo metodo quindi lo utilizzo sono contenta anche perché in questi giorni sono riuscita a registrare un bel po' di video perché ultimamente mi sto dedicando tantissimo al canale spero che questa cosa vi piaccia spero che vi piaccia anche il fatto che mi sto impegnando molto molto di più e sempre di più per fare dei video di qualità maggiore ecco allora poi per gli altri colori non so se utilizzare un colore un po' più shimmer oppure un colore un po' opaco allora oggi andiamo di shimmer dobbiamo illuminarci un pochino dai meno male che ho detto faccio un trucco naturale vabbè allora vado ad utilizzare questo che è un colore marrone dorato shimmer non ricordo il numero però ve lo inserisco poi qui sotto ok ne prendo proprio poco poco e vado ad applicarlo sul resto della palpebra oggi va così ragazze voi che farete oggi a Natale o cosa avete fatto se già avete festeggiato il Natale con i vostri cari siete a casa siete in qualche città so che tante persone che conosco sono in giro per il mondo quest'anno a Natale sì noi volevamo andar via a Capodanno però per questione di lavoro non siamo riusciti ad incastrare tutto quindi abbiamo preferito andare a Natale anche perché è dall'estate scorsa che io continuo a dire a Mattia io a Natale voglio andare al caldo voglio andare al caldo perché è un'esperienza che mi manca effettivamente quindi quest'anno ce l'abbiamo fatta abbiamo prenotato a settembre poi a novembre siamo andati nel panico perché ci hanno cancellato letteralmente il viaggio che avevamo prenotato a Marsalam infatti su Instagram fra le storie poco dopo che avevamo prenotato la prima volta avevo scritto mancano non so 60 giorni non mi ricordo al nostro viaggio e avevo messo il mare, le palme e tutto quanto e un po' di voi mi avevano chiesto dove andate, dove andate io felicissima quindi poi ci siamo trovati circa 20 giorni prima della partenza della presunta partenza a dover riprenotare tutto quindi avevamo paura che i prezzi fossero lievitati invece siamo stati anche molto molto fortunati devo dire la verità ci è andata bene, ci è andata bene ora vado ad applicare come diciamo illuminante sotto l'arcata sopraccigliare questo color bianco sporco poi vi metto il numero esatto che è sempre di puro bio e ne metto proprio poco poco giusto per illuminare un pochino lo sguardo ma niente di speciale insomma poi sapete che io utilizzo più o meno sempre questi colori quando mi trucco perché lo vedete nei video non mi piace esagerare però mi piacciono tantissimo queste tonalità magari prima o poi farò un corso di makeup artist no sto scherzando ovviamente però magari prima o poi mi informerà un po' di più su come truccarsi in maniera corretta comunque insomma io mi sono sempre truccata così mi sono sempre trovata bene quindi a questo punto non vado ad aggiungere nient'altro quindi non vado ad aggiungere ad esempio la matita nera nell'arima inferiore oppure nell'arima superiore degli occhi semplicemente perché voglio appunto che il trucco rimanga un po' più naturale comunque sto utilizzando questo mascara di Purubio che è il Glorious che è il mascara volumizzante è un mascara che ho ricominciato ad utilizzare poco tempo fa perché stavo utilizzando altri mascara ad esempio quello di Cooler Caramel con cui mi sono trovata molto bene oppure ho utilizzato il mese scorso tantissimo e ve ne ho parlato anche nel video dei preferiti di novembre ho utilizzato quello di Subbiotique perché appunto non mi brucia sugli occhi e rende le ciglia molto molto belle ok allora questo è l'effetto del mascara che ho applicato di qua e adesso andiamo ad applicarlo anche nell'altro occhio se avete visto qualche mia live saprete che io poi quando comincio a parlare non la smetto più sono una chiacchierona sono veramente una chiacchierona mi piace chiacchierare insomma del più e del meno quindi probabilmente taglierò tantissime parti di questo video perché risulterà lunghissimo quando andrò poi ad editarlo ok l'effetto è carino dai non è male adesso vado ad applicarlo anche nella parte inferiore appunto sulle ciglia inferiori ora per dare un po' di colore vado ad applicare il bronzer di Puro Bio che è il numero 2 e vado ad applicarlo esclusivamente in queste zone andiamo a dare un po' di colore a questa pelle molto molto chiara andiamo a dare un po' di vita insomma ok dai già meglio già meglio di prima ora vado a stendere un po' di illuminante eccolo qui ed è il numero 3 di Puro Bio ho anche la versione nuova qui a casa però oggi mi andava così insomma oggi voglio illuminare un pochino il mio viso quindi ho deciso di applicare anche questo ne applico pochissimo al posto del blush oggi non ho voglia di applicare il blush magari in un altro get ready with me vi mostro i blush che sto utilizzando perché poi non utilizzo sempre lo stesso ok ne ho messo proprio poco 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 come vedete ho voluto fare un trucco veramente molto naturale che poi adesso ho registrato il video quindi il video è un po' più lungo però di norma in 5 minuti riesco a fare tutto ora vado ad applicare questa tinta per labbra che è la numero 06 di Puro Bio sì praticamente il mio trucco è sponsorizzato da Puro Bio sto scherzando ovviamente non mi hanno pagato per fare questo video o per parlare dei loro prodotti però ho veramente tanti prodotti di Puro Bio a casa anche perché spessissimo l'azienda mi manda tanti prodotti quindi io li provo tantissimo li provo tutti i giorni quindi vi posso parlare tranquillamente di tutti questi prodotti perché li utilizzo tutti i giorni però mi piace molto anche come marca la sua beauty che acquisto e mi trovo veramente molto molto bene ok tinta labbra applicata io sono la persona più imbranata del mondo nell'applicazione dei rossetti delle tinte per le labbra non so se anche voi vi sentite un po' come me non lo so io sono veramente imbranata e ci metto tantissimo quando vado ad applicare la tinta per le labbra oppure un rossetto anche se dovrebbe essere una cosa semplicissima e super naturale non so se capiti anche a voi oppure sono l'unica al mondo che ha questa difficoltà mi piace tanto questa tinta per labbra perché al di là del fatto che il colore mi piace tantissimo ma mi piace molto anche la durata infatti anche se la mia intenzione era quella di preparare un trucco molto naturale ho voluto dare questo tocco in più diciamo non avendo utilizzato kajal non avendo utilizzato eyeliner non avendo utilizzato la matita nera semplicemente perché dovendo anche rimanere fuori diverse ore avevo bisogno di qualcosa che rimanesse sulle labbra per parecchio tempo e quindi ho optato per questa tinta per labbra così da un tocco in più insomma è un po' più vivace così il mio il mio make up e poi perché mi piace tantissimo la durata sulle labbra di questo prodotto ora togliamo tutto quanto facciamo così olè pronta per uscire allora io spero tanto che questo video vi sia piaciuto spero di avervi tenuto un po' di compagnia se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e fatemi sapere anche fra i commenti e con un pollice in su se vi piace questa tipologia di video ogni tanto per mostrarvi i prodotti che sto provando vi mando un grosso bacio grazie per aver guardato questo video e buon Natale ciao ciao